Ben tornati amici esageratissimi ed eccoci qui di nuovo con una nuova puntata e vediamo di andare a posizionare questa batteria esatto questa bellissima batteria sempre in diretto dal canale di ste nico io sono ste io sono nico me lo so scordato ma eravamo giusto pronti perché siamo presissimi in questo gioco stiamo registrando uno dietro l'altro e quindi vabbè tanto siamo noi abbiamo ucciso tutti perché ci piace si abbiamo dato due sparafreshate di magnum adesso andiamo a posizionare sta batteria lì nell'ascensore quindi devo tornare dove ci sono nel giardino dei semplici nel giardino dei boboli non so come ci perdiamo singolamente no è dall'altra parte in maniera isterica esatto è dall'altra parte del girando per la magione voglio trovare dove il giardino questo non era mai morto no questo non era mai morto ma siccome mi stanno troppo fuori la palla che si fa ma ti sento troppo pacato che cosa è successo qualcosa dai stefano un po' più di allegria non lo so ed eccoci ragazzi ben tornati vediamo che corre gill bravissima dai su un po' più di furie vai gill dai un po' più a me dobbiamo arrivare a scarsa di giardino e ho capito ma con questa lena al giardino ci arriviamo che abbiamo 48 9 mila dai cazzo dove ti sei perdi qua no no ci ho ci ho dovevo andare da d'altra parte sotto dove c'erano da mettere sai le varie come chiamano i vari emblemi sole luna sole amore e cuore solo amore e cuore io ti lovo anche ta tu a me io ta tu per tre tre per uno viva il moschetti adorato aspetta che apriamo la porta con allegria salve benvenuti sono gill ben tornati sei sicuro che era questa porta bravo stefano come sei bravo che l'è bravo stefano aspetta 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 al volo addirittura il tiro al piccione brutto stronzo schifoso bastardo ma se gli spara flash i due bazooka ma no ma che spregare il bazooka si vabbè potrei anche farlo finita la magnum prima poi dovevo usare il bazooka continuiamo alle prime porte si lasciarle aperte prima no ecco adesso la batteria era di qua eh si proviamo eccoci no va nel corrido di oggi no era sotto esatto questo è quello cattivo ehm se no i canicchi si lamentano no secondo me non ce ne stanno dai basta sono finiti questi cani anche perchè la magnum per i cani no eh corro perchè se no c'ho il bazooka piuttosto ha sputi a sputi e schiaffi in faccia al cane zombie eh cane zombie ovvio eh adesso ci saranno le schifezze si si corri corri che che cagano serpendi ecco lì che schifo ma dove arrivano? eh dagli alberi sono dei sono giapponesi sono kamikaze crescono sugli alberi qui sono dei serpenni mitaze serpenni mitaze sono un mistro tra kamikaze e serpendo vai gil con allegria eh eccolo con allegria ecco 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 vai liberiamoci anche uno slot posiziona batteria si eccola abbiamo trovato l'avevano lasciato in una tomba un classico proprio adesso possiamo usare questo ascensore qua ok via adesso ritorniamo nella magione e dobbiamo rifare tutto di nuovo da capo solo che adesso ho messo la batteria dove andiamo? abbiamo finito quello che c'è da parte ma 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 cioè abbiamo fatto tutto sto casino per ritrovarci al punto di prima per non fare tutta la ma perché allora eh ma c'è ci sarà un motivo ci sarà ma l'inutilità di questa batteria ok quindi adesso vediamo dopo sta batteria quindi facciamo solo su e giù però servirà a qualche cosa fare su e giù senza passare da qui no? soprattutto abbiamo la manovella ancora che non ce l'abbiamo nell'inventario però vabbè come non ce l'abbiamo? eh non ce l'abbiamo quindi cosa vai a fare la manovella? no stavo guardando se chiudendo di nuovo la manovella diventa magari può diventare accessibile qualche cosa passando di qua potremmo riuscire a passare dall'altra parte quindi non abbiamo la manovella no quindi dobbiamo andare a prendere la manovella quindi ma dici che serve di nuovo la? eh sì eh però poi non possiamo più scendere e abbiamo sempre l'ascensore serve apposta per questo quindi adesso cerchiamo sta manovella eh un un baule qua intorno rifatti tutto il percorso eh mamma mia pensate per una manovella che cosa non si deve fare il trapanelli si era qua vicino la stanza per salvare no no non qua no in questa porta qua eccoci qui al meccanismo vediamo sta manovella la riusiamo vediamo se c'ho rimetti l'acqua rimetti l'acqua a Gil rimetto acqua e quindi non io ho rimesso l'acqua non possiamo passare no ma non ti fa scendere beh certo però adesso posso adesso posso tornare lì anche l'ascensore dove è l'ascensore eh in fondo a destra così posso posso salire scendere eh dall'ascensore senza che apriamo questo cancello e soprattutto che ci cagano serpenti in testa esatto basta cucia bobby anche i grilli c'è uno zogo questa batteria funzionantissima vai Gil dove è andata? quindi qua prima non si poteva andare perché c'è ah ok c'è una scala vuoi scendere su e c'è l'acqua è vero e ogni tempo te li ricordi qualcosina di sto gioco qualcosina no ma giusto perché sennò non non ha senso eccoci allora una porta a sinistra non è vero e a destra no però non apriamo però non apriamo lo stesso eh ok cos'è questo? niente cos'è questo suono di un radar che si sente? una scala altra porta altra porta una porta bene siamo in questi sotterranei bruttissimi e tra parentesi c'è anche uno che c'è un pozzo no c'è qualcosa che corre no no c'è un pozzo c'è un computer computer? si no sono delle munizioni che che schifo io le prenderei ci sono sempre c'è anche uno spray medico uno spray medico molto comodo tanto spazio ce n'è bellissimo come ti curi con lo spray? cioè hai le ferite eeeh è un generatore non sembra funzionare ovviamente ok non funziona bene siamo diventati anche gli elettricisti esatto noi sostituiamo batterie generatori tutto buono io mi sono già perso c'è un'altra porta ma si va beh ok va ecco ecco c'è Jill? è quella voce Enricos? sì tu sei vivo aspettate sei con qualcuno Jill? cosa? cosa? oh no sono solo ma perché ti chiedi? ascolti le stelle saranno finiti in breve qualcuno è un traitor tutto tutto è stato da l'inizio da Umbrella ma perché gli abbiamo sparato? noi abbiamo sparato noi vedi non siamo stati noi ahia chi li ha ucciso? e mi giravi prima mi giravi e andavi a controllare vabbè ok non c'è niente da darmi probabilmente non poteva muoversi perché della sua ferita qualcosa con sé ecco bravo eh vabbè allora prendiamo inutile non c'è più niente eh no no sto cliccando il culo ok 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 allora qualcuno ci ha ammazzato l'ultimo membro qua quanti cacchio sono che ogni totte ne contiamo qualcuno eh attenzione un'altra eh sì ecco ma ce l'abbiamo già vabbè sì ok magari c'è un intaglio diverso provo a vedere esamina allora questa è la prima vediamo è quadrata è quadrata questa è la seconda esagonale perfetto le manovelle mamma mia le manovelle pagliacissime esatto da dare in faccia agli zombie no? infatti non so perché non le puoi usare come armi ok ecco assorbo ok mi libero una volta soprattutto mi libero di tutti i colpi che non abbiamo più della maglia delle munizioni una porta un'altra porta dove non sono ancora entrato entriamo sì sicuro non siamo mai entrati c'è una pagliaccia ok sono zombie aiosa aiosa ma soprattutto non sono più zombie abbiamo fatto tutto il giro praticamente se non sono più zombie sono solo sti cosi qua hunter come li vuoi chiamare e dove andiamo? e troviamo indietro ma non c'è una stanza di salvataggio per riporre eh non lo so oggettistica varia eh non lo so la c'è una scala ma ci siamo appena arrivati allora proseguiamo proseguiamo perché non siamo ancora andati di qua ecco la paglia chiesa ecco la paglia chiesa non serve niente perché non ho il gribbo ah secondo me in giro vedi che è un gribbo no 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 questa c'è la manuella c'è un foro di forma esagonale paglia chiesa attenzione gira la roccia gira la roccia gira la roccia la fortuna della roccia anche tu controlla la mappa vedi perché mo' sei aperto come fa? gira in continuo devo forse schiacciare io mmm non lo so no no si è fermato si è fermato vediamo un po' cosa c'è in questa porta ma poi non ho capito l'utilità di girare questa cosa evidentemente sopra nella villa ma ha girato qualcosa l'ha girato la villa? l'ha girato la villa vedi qua che ci sono no ma un baule? oh 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 cazzo una pietra una pietra la vedo male alla tombraider ecco eh vai 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 buttati subito sulla porta sulla porta sulla sinistra sono anche delle munizioni veloce veloce si schiaccia eeeh la palla e ci riesce e ci riesce e si è in ginocchio riconosce all'anzo fatality esatto questa scena veramente attenzione sulle munizioni per la magnum oh cazzo eeeh dagli una bazooka da questo ti prego facci vedere come spara play c'è questo bazooka ok anche questo cattivissimo mi riempio l'inventario però vabbè incendiarie vabbè tanto adesso le andiamo un po' a lasciare se proviamo magari e quindi per terra non c'era niente l'utilità di no qua ci sarà qualcosa eh vedi che mi ha aperto un barco eccola la porta eh cazzo oh cazzo funziona la 20 century fox eeeh ragnone ecco perché ha dato con luce di aria bastardo mi sono anche avvelenato però io la mannaggia la miseria eeeh lì c'è qualcosa da prendere ehi ragnetti da schiacciare ah il coltellino ecco sono tanti eh se venite che schifo questo ha fatto una sana fa cagare eeeh i brividi ma vaffan senti secondo me o moriamo io uscirei due secondi eh ma non c'è non c'è non c'è null'altro da prendere a parte quel coltello lì c'era qualcosa eh c'è una porta qui ma no eh sì perché sennò stavo per morire sei contro questa porta qua però non può come faccio ah mi serve il coltello capito ecco perché ti da il coltello perché sennò non puoi togliere le ragnatele ma schiacciati i ragnetti i bastardi che schifo e basta eh ma qui sono tarantole giganti ma quanti sono? vabbè quello è bugato lì vabbè qui credo che una cosa di questo genere comunque agilità dai inci dai eeeh giustamente perché se te lo sei scordato che se te lo sei scordato di portarti dietro il bellissimo coltello giustamente no no aspetta l'equipaggio le incendiare dai perché? voglio vedere come incendio così ce le toglievamo anche dal cazzo eh non posso ormai devo eh non posso sbagliato eh non posso allora stanza sicura subito la voglio voglio la stanza sicura poi ci salutiamo salutiamo ciao li salutiamo ciao grazie come cacchio sono? ascensore un'altra manovella si soprattutto un'altra pietra ok vabbè ok non so se partirà sta pietra ecco è bellissimo e mi sa che sono morto no perché? pensavo di morire invece incredibile la metà cioici il beleno in corpo una piantina dei sotterranei non vuoi prenderla beh vedi sono ci partiamo cosa c'è? c'è qualcosa? a questo mi serve vedi? dovevi liberarti adesso di eh io non devo prendere quei cacchi di no li dovevi subipaggiare subito eh sbaglio vabbè senti poi c'è una manovella proviamo no provo a tornare indietro perché non sono ancora andato dall'altra parte vediamo cosa c'è spero ci sia una stanza sicura per mollare tutto e curarmi ma ce l'abbiamo una piantina blu si si ce l'abbiamo edda che schifo i serpenti anche qua cagano serpenti sono quelli di sopra vediamo questa stanza sicura eccola stanza sicura quindi stanza sicura eccola in grippo ah no aspetta mi sa che devi lasciare un po' di roba prima devo lasciare un po' di roba soprattutto mi devo curare si quindi spianta al veleno esatto quindi prima di tutto mi prendo il composto di erbe quello con no qual'era quello con col blu ecco eccolo ok poi mollo questo mollo questo e ma novelle non lo so molliamo anche la magnum si andiamo avanti con tanto abbiamo visto che c'è solo roba grossa ormai quindi ci curiamo subito a cautela attenzione c'è una piantina di che colore è blu era un beleno vabbè tanto il verde dovevamo comunque prenderla perché eravamo sul rosso quindi lo spray io non lo userei perché ti cura tutta la vita siamo ancora a cautela quindi a questo punto vediamo se abbiamo una piantina verde spaiata una piantina verde spaiata vediamo se l'abbiamo ma mi sa che abbiamo solo preparazione di erbe perché tu hai voluto fare il 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 preparatore di erbe ho voluto fare va bene mi sa che qualche pianta singola la dobbiamo prendere allora io direi che mi porto allora io direi che mi porto dietro allora io direi che rimaniamo a cautela rimaniamo a cautela tanto abbiamo appena salvato mi porto dietro questo quindi stiamo per salvare infatti quindi non che vale secondo me una volta che troviamo le piantine ci prendiamo le piantine che troviamo per il terra tanto abbiamo appena salvato in Cribbon abbiamo quattro più gli altri dentro quindi siamo tranquilli quindi con questa macchina da scrivere possiamo salvare la partita e soprattutto salutarci benissimo amici diciamo che con questo gameplay abbiamo finito per oggi proseguiremo qui all'interno degli scandinati dei sotterranei vediamo dove ci portano è morto Enrico è morto Enrico poverino che era il capo squadra se non sbaglio che avevamo visto all'inizio non lo so abbiamo scoperto che c'è un traditore un bastardo se lo prendiamo lo scotteniamo come un io ho un'idea di chi può essere si anch'io anche voi magari non la siete fatta un'idea quindi da parte mia da Enrico e da parte di te un caro saluto esagerato esageratissimo come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao ciao